E vediamo anche l'azione dell'età di Dio, vediamo che questa età è talmente armoniosa che lui riceve soltanto gli impulsi positivi su di lui, cioè soltanto gli impulsi favorevoli che gli permettono di mantenere la sua giovinezza, la sua salute assoluta, quindi così vediamo l'azione di questo stato primordiale dell'età di Dio. E noi così abbiamo conosciuto un tale controllo come l'età di Dio, quindi l'età di Dio è un sistema pilotante, è un sistema di controllo. E quindi per risanare una persona, per ricostruire una persona, noi possiamo vedere l'azione dell'età di Dio nella struttura interiore dell'uomo. Per far questo dobbiamo passare in punto in cui non c'è una malattia, ma ci sono i sistemi di prognosi, di previsione, che per esempio possono prevedere che succederà qualcosa. Per esempio una persona interagisce con la realtà e vede che per esempio in quella realtà si manifestano degli eventi sfavorevoli, oppure si manifesteranno. E per esempio una persona non ha ancora interagito con quella realtà, è soltanto una previsione. E quindi in questo punto di di Dio, nel corretto Dio, nel corretto Dio, nel corretto Dio, di cui si manifestano Dio, nel corretto Dio, Allora in quella struttura dobbiamo individuare l'età di Dio. Quindi dobbiamo individuare l'età di Dio e correlare per esempio la struttura dell'azione di una persona con la struttura di come agisce ad esempio questa età di Dio. Quindi ad esempio una persona ha agito in modo scorretto, ad esempio ha fatto un errore e quindi tutto va lungo questa via di deviazione, la via sbagliata. Allora possiamo applicare qua l'azione dell'età di Dio, possiamo applicare l'azione dell'età di Dio, per esempio individuare l'età di Dio e così dirigere le azioni di questa persona in una direzione corretta attraverso l'azione dell'età di Dio. E questa azione dell'età di Dio è infinita, c'è sempre, è eterna. Il nostro compito è semplicemente quello di percepirla, di rilevarla. E questo impulsio può essere manifestato in qualsiasi azione, possiamo rilevarlo in qualsiasi azione, in qualsiasi fenomeno. E così, percependo quindi questa azione di Dio, quindi anzi l'azione dell'età di Dio, noi possiamo anche far ringiovenire una persona oppure ricostruire la salute di una persona. E allo stesso tempo la persona stessa non lo percepirà nemmeno, non lo sentirà nemmeno, avrà semplicemente la norma e basta. E con tempo questa persona capirà che quella persona stessa ha realizzato quella norma perché ha visto l'azione di Dio. Questa persona capisce che ha guardato correttamente a Dio ed è per questo che ha ricevuto la norma. Quindi effettivamente questa persona ha ricevuto la vita eterna stessa nella sua percezione. E quando la persona lo realizza, lo capisce, per esempio capisce che guardare quindi a Dio correttamente significa ricevere la vita eterna per quella persona. E allora quella persona vede qualsiasi sua percezione, quindi costantemente porta in sé la sua vita eterna, la sua vita infinita. E noi così, quindi stabiliamo la nostra percezione. che è in qualsiasi, per esempio, fenomeno della realtà che stiamo percependo, noi vediamo la manifestazione della struttura di Dio. Quindi in qualsiasi fenomeno, in qualsiasi evento riusciamo a percepire, per esempio, la manifestazione della struttura di Dio, il che poi ci dà anche il ringiovenimento, il risanamento, eccetera. Grazie. Grazie.